Ci viene spesso chiesto qual è la differenza come scegliere tra Svic, Sposi e SID. Sono tre corsi che hanno tutti e tre la parola internazionale nel nome, questo genera confusione perché tutti hanno un approccio multidisciplinare e coprono anche lo studio dei processi globali. Voi come vi siete rapportati con questo dubbio? Ce l'avevate anche voi quando vi siete iscritti? Perché avete scelto Svic e non gli altri? Io ho letto pieno di studi, diciamo che ho letto i corsi che mi piacevano di più e li ho trovati in Svic personalmente. Stesso discorso di Riccardo, con me io volevo andare a Bologna perché non sono entrato nel reggimento in marketing e volevo fare un corso con inclinazioni internazionali e rispetto agli altri due corsi penso che questo abbia più dei internazionali rispetto agli altri, a mio avviso guardando il piano di studi. Ma io un po' come gli altri, personalmente penso che sia molto molto difficile consigliare un'altra persona, nel senso che per me è stata una scelta estremamente individuale, io l'ho voluta prendere abbastanza da solo, nel senso che avevo una vaga idea di quello che volevo fare dopo e rispetto a quell'idea, secondo me Svic era più coerente rispetto a quelli che erano le mie prospettive e sembrava a me avere appunto delle materie che mi potessero piacere di più e un'impalcatura anche di come erano fatte le materie che lo rendesse un corso ai miei occhi più eterogeneo, più completo, nella prospettiva appunto di darmi per il futuro una serie di incastri dove io potessi poi attaccare il mattoncino successivo con estrema libertà, che è quello che per me sta succedendo anche nell'ottica che ad esempio io non so se farò la magistrale appunto che sta facendo Virginia, cioè quella che naturalmente scaturisce da Svic o se ne voglio andare a fare un'altra, però sento di avere comunque le spalle abbastanza robuste grazie a questo corso. Quella che è stata la mia esperienza e credo che sia anche condivisa è che proprio avere una visione di insieme così ampia mi ha permesso di capire esattamente che cosa volevo fare, sono entrata con un certo tipo di idea e l'ho cambiata nel mentre, ho fatto tanti giri, sono ritornata alla mia idea iniziale ma molto più definita, molto più concreta e sono molto grata proprio di aver studiato, questo può essere un ostacolo, vedete al primo e secondo anno materie anche molto basic, economia, diritto, sociologia, può essere scoraggiante vedere dei nomi non così attraenti, ma è una cosa molto fondamentale poi per avere un pool di competenze che vi permette di capire che cosa è interessante per voi e adottare tutti questi approcci nella maniera in cui affronterete il vostro campo di interesse. Quindi non preoccupatevi, si è detto fin dall'inizio tante volte dovete specializzarvi, dovete costruire il vostro percorso in maniera personale, ma nessuno di noi penso, quando siamo entrati avevamo idea su cosa specializzarci, avevamo un'idea di che cosa ci poteva interessare perché avevamo dei riferimenti, persone, professionisti. Non preoccupatevi se non lo sapete già, lo capirete nel vostro percorso, avete un sacco di tempo, io se penso alla persona che ero quando sono entrata in università a 19 anni, non è che fosse una persona diversa da quella che sono, ma gli anni di università sono stati incredibilmente formativi per me. Un'altra cosa interessante che diceva Andrea, il fatto che c'è chi si occupa di sviluppo a livello globale, c'è chi si occupa di sviluppo a livello locale, ci sono anime molto diverse che convivono a Svick e questa è anche una forza perché vi conflenterete con persone che magari arrivano con delle aspettative, dei sogni che sono molto diversi dai vostri. Molti partono da un livello globale e poi si specializzano nello sviluppo territoriale, si appassionano alla valorizzazione dei propri territori, è un percorso comune ma esistono una varietà incredibile di percorsi. Quello che mi sento di dire è che Svick non è che è più internazionale degli altri, in realtà scienze internazionali diplomatiche possiamo dire che tiene l'aspetto internazionale costante, cioè qualsiasi cosa è affrontata da un punto di vista internazionale, mentre Svick ha anche approcci che hanno un carattere più territoriale, locale. Quello che fa Svick è intanto avere un focus specifico sullo sviluppo e anche sullo sviluppo sostenibile, chiaramente, anzi, sullo sviluppo sostenibile. E quindi vedrete tanti esami declinati sulla base di questo, cioè troverete magari sociologia dello sviluppo, economia dello sviluppo. Perciò questa è la chiave di lettura attraverso cui vengono guardati i processi. Ha un atteggiamento comparativo anche rispetto a paesi e aree geografiche con livello di benessere. Al primo anno trovate subito Africa nella storia internazionale, significa che chiaramente dà subito un imprinting al corso che insegna a guardare la storia e le relazioni internazionali da un punto di vista che non è europeo. Questo vi dà una chiave di lettura importante di come vengono affrontate le cose a Svick. Quindi questo è quello che vuole essere un po' l'elemento peculiare che distingue Svick dagli altri corsi. Ci sono delle cose in comune, ci sono anche soprattutto con i crediti a scelta tra Svick e Sposi, ci sono anche degli insegnamenti che sono in comune, che possono essere mutuati. Quello che speriamo che sia passato è che guardate il piano di studio, guardate quello che vi interessa, proprio perché nessuno di questi tre corsi è fondamentalmente particolarmente diverso dagli altri. Potenzialmente le possibilità che vi lasciano aperte i magistrali sono molto simili se non uguali. Quindi chiedetevi veramente che cosa volete studiare adesso in trennale, quali sono gli esami che vi interessano di più. Prendetevi i piani di studio, proprio ve li scaricate, ve li confrontate, cliccate su ogni insegnamento, guardate che cosa c'è in quell'insegnamento, quali sono i testi di esame e chiedetevi veramente che cosa vi interessa di più fare. Secondo me questa è proprio, una volta che avete definito che volete venire in un ibo e volete studiare le scienze politiche e sociali e se avete un dubbio tra questi tre corsi, l'ultimo elemento proprio per scegliere è guardare i piani di studio e scegliere in base a cosa vi piace. Grazie. 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 Grazie.